Grazie a tutti. Sono anche i temi che vanno a sottolinearmi in laterano a Roma, è sicuramente, ma lo sapete, a cura del figlio 3, andrà in manifestazione per la canna unitaria che si svolge quest'anno a Bologna, quando è il direttore artistico, lo abbiamo tenuto nascosto, io non ho altro. Il 25 aprile, però è un bel segnale per... Tenuto in una teca, conservato. La manifestazione del mattino, quella nazionale, si terrà la volontà, felice, la volontà, di welfare. Apprezzo tanto, è per me. Grazie a me. La scelta è rinunciabile dell'Europa, del nostro futuro, e non sia semplicemente l'Europa di bank, di welfare, di Stato sociale, cioè sia un'Europa musicale live come è il concertone. Il concertone di molti tabù, anche culturali, è insistere con questo appuntamento, pensiamo che rilanciare un'idea di un'Europa rinnovata. Grazie. Ringrazio il segretario. Buongiorno a tutti, io chiaramente riprendo ancora una volta, per la 29esima volta, siamo nelle condizioni di poter organizzare questo bel concertone, che è anche un'occasione, come si dice, è un evento davvero molto importante, grazie fortunatamente a costruendo un bellissimo primo maggio anche per quest'anno. È una piazza importante in un momento fine, alla fine questo concetto... Vogliono essere chiusi nei loro ambiti, stanno a trovare un posto di lavoro, un posto di lavoro. Grazie.